Grazie Presidente, è un emendamento che ho già presentato nelle altre occasioni. Mi spiace che non c'è il collega Turci, che si è sempre preoccupato del benessere degli animali. Lo sapeva che se non era presente. E' vero che lui si preoccupa dei piccoli animali o degli animali d'affezione, come si dice. In questo caso, questo emendamento lo presento soprattutto per cercare di dare una pienezza al regolamento CE 1.2005, che è quello che riguarda il benessere, il trasporto degli animali, e qui parlo di animali da reddito, ai macelli. Questo regolamento CE ha creato diversi problemi all'interno delle aziende agricole, soprattutto per le modalità di trasporto e per l'abbattimento degli animali che non possono essere più trasportati, perché in alcune condizioni gli animali non possono essere trasportati al macerro, per cui devono essere abbattuti in azienda. Questo crea dei grossi problemi, un aggravio di costi agli allevatori, per cui chiedo alla provincia di intervenire, soprattutto nell'ambito del benessere animale, proprio come avviene negli altri paesi europei, dove le varie regioni, lo Stato si fa carico di questa responsabilità dello smaltimento delle carcasse. Pertanto chiedo di sostenere questo emendamento e vi ringrazio. Grazie.